Anche quest'anno la Banca ha voluto organizzare il Carnevale a Fisciano, dobbiamo dire che ogni anno migliora sempre di più, quest'anno ci sono 11 carri che sfideranno per le vie di Lancusi e concluderanno la manifestazione all'interno del parcheggio della Banca. Io voglio ringraziare soprattutto tutti quelli che hanno organizzato questa manifestazione a livello di costruzione dei carri allegorici perché sono tutti volontari, sono tutti appassionati di questo spettacolo, quindi praticamente noi li vogliamo ringraziare e auguragli che ogni anno possono migliorare sempre di più il nostro istituto di carne. Questa è una manifestazione bellissima che è stata creata da qualche anno fino a Lancusi. Ringrazio tutti i ragazzi che l'hanno accaduto, se li puoi inquadrare per cortesia e anche la manifestazione che è qui da noi. E che dire più, vi ringrazio moltissimo e continuate a seguirci. Ciao! 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 Sì, è stato un po' Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Al sindaco di Fisciano Al suo presidente Domenico Sessa Grazie agli organizzatori Abbiamo vissuto qui a Lancusi Tutti quanti insieme Una bella giornata di festa Ma è grazie soprattutto a tante donne A tanti uomini Grazie a tutti